Il nostro franghino si stava, ha rapito le nostre cerere, lui è il nostro concorrente più giovane, e ora sei arrivato tu, mi raccomando con le mani accompagniamo Franco Berrotta e Osurdato Namurato. Il nostro franghino si stava, ha rapito le nostre cerche, il nostro franghino si stava, ha rapito le nostre cerche, il nostro franghino si stava, ha rapito le nostre cerche, il nostro franghino si stava, ha rapito le nostre cerche, si stava, ha rapito le nostre cerche, ha rapito le nostre cerche, ha rapito le nostre cerche, ma stava, ha rapito le nostre cerche, ma stava, ha rapito le nostre cerche, ma stava, ha rapito le nostre cerche, si stava, ha rapito le nostre cerche, ma stava, ha rapito le nostre cerche, ma stava, ha rapito le nostre cerche, ma stava, ha rapito le nostre cerche, per me. Amosso! 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 Grazie, grazie. Grazie a Franco Perrotta. Grazie a tutti.